eccoci qua ragazzi stiamo facendo i braccialetti e stiamo scrivendo casting gf tutti uguali questo ci regala gambino gambino confermi? no sto cercando i soldi non li trova sto cercando il biglietto che non lo trovo ok quindi compare tu vedi il grande fratello grande fratello grande fratello lo vedi ti piace si piace dobbiamo andare noi al gf dobbiamo spalangare quella forza e ci scriviamo tutti scriviti 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 votami tu quanto ore hai fatto? io ho fatto mio e un altro io voglio un bravo ascuta c'è un problema non lo fare più strano tu un problema ce l'hai nella testa che cazzo dai non ho sconato non ho sconato non ho sconato non ho sconato ah bene va non è fa schifo ah 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 ah